Siamo con Francesco Megna, lo ringraziamo per questo intervento, esperto in materia finanziaria ci aiuterà a capire qual è l'andamento di settore, soprattutto nella nostra zona, nella zona del triangolo lariano, una zona che conosce bene anche perché ha avuto modo nel corso di 30 anni di carriera di girare aziende, non soltanto, ma contattare numerosi privati e cittadini. Allora da cosa vogliamo partire? Direi di cominciare ad affrontare il discorso mutui. Certo, allora diciamo che negli ultimi due anni il repentino rialzo dei tassi di interesse ha penalizzato tantissimo chi ha stipulato un mutuo a tasso variabile, un esempio per tutti, chi ha stipulato un mutuo nel 2022, 126 mila Euro a 15 anni, ha subito una rata che passa da 450 a 750 Euro, quindi parliamo del 66% in più di incremento, con un TAN che passa dallo 0,67 allo 5%, quindi un rialzo importante che ha messo in difficoltà diverse famiglie. Come riuscire a parare questo colpo, se è possibile? Certo, allora il fenomeno delle surghe è il principale strumento che ha consentito a molti mutuotari di passare dal tasso variabile al tasso fisso, un esempio per tutti, da inizio anno le surghe sono aumentate di circa il 40%, hanno aiutato molti risparmiatori appunto a passare dal tasso variabile al tasso fisso, ma anche chi ha stipulato un mutuo a tasso fisso nel passato a condizioni più onerose rispetto adesso, ha potuto abbassare la rata appunto surrogando un vecchio mutuo e passando da un mutuo con un tasso fisso più basso, quindi calmirando la rata. Qual è l'importo medio richiesto? L'importo medio è circa di 140 mila euro e le durate medie vanno dai 20 ai 25 anni. Parlando del credito a consumo, quali sono i beni maggiormente acquistati? Allora, i beni maggiormente acquistati, allora il boom dell'automotive è stato un impulso importante per il credito a consumo, salito qui in Brianza di circa il 3% rispetto allo scorso anno, ma anche c'è stato un incremento del 10% circa su operazioni di efficientamento energetico. Parallelamente invece scende il credito non finalizzato, quindi i classici prestiti personali scendono di circa un 2%, così come scendono dell'1,5% le operazioni di cessione del quinto dello stipendio e della pensione. Per quanto riguarda invece gli investimenti, cosa possiamo dire? Allora, in questa situazione abbastanza particolare il persistere della guerra in Ucraina, il conflitto in Israele, comunque conflitti e situazioni economiche difficili un po' a macchia di lopardo a livello mondiale, hanno indotto molti risparmiatori a ingestire i loro risparmi in un'ottica di contenimento, quindi di prudenza, quindi c'è stato un boom di investimento in fondi monetari obbligazionari a brevissimo termine, botte del tesoro poliennali, diciamo che un 50% circa della ricchezza nostra viene investita in questi asset. Comunque crescono le sottoscrizioni di quote di fondi comuni di investimento, siamo a circa un 20% del patrimonio delle famiglie, i fondi flessibili comandano questa classifica, seguiti dai fondi obbligazionari, bilanciati e azionari. Al di là della statistica, lei come consiglierebbe di investire in questo periodo? Guardi, diciamo che un investimento deve seguire quello che è il profilo di rischio e l'orizzonte temporale e gli obiettivi, non c'è una ricetta per tutti, va da sé che attualmente molti risparmiatori investono i loro soldi in piani d'accumulo, quindi anziché fare versamenti in un'unica soluzione, spalmano i loro risparmi nel medio e lungo termine per poter consentire così di andare a mediare quella che è la volatilità attuale dei mercati. Passiamo ora alle aziende, le aziende in difficoltà dato la situazione geografica, la situazione mondiale, ma non soltanto, soprattutto il rincaro dei tassi. Certo, diciamo che cala del 3,5% il credito alle aziende, soprattutto il credito a medio e lungo termine, le aziende visto il rialzo repentino dei tassi di interesse investono di meno o attingono direttamente alle loro disponibilità liquide, mentre invece scende ma di meno il credito che assiste il capitale circolante delle aziende. Quindi parliamo di apertura di credito in conto corrente, anticipi fatture e smobilizzo di portafoglio. Parallelamente aumentano invece gli investimenti in digitalizzazione. Molte aziende, molte piccole e medie aziende hanno capito che se investono in digitalizzazione possono sperare in un futuro a livello logistico migliore per le loro aziende. In qualità di imprenditore lei come si comporterebbe nei confronti delle banche in questo periodo? Nei confronti delle banche semplicemente cercare innanzitutto di… è importante per una banca la trasparenza, quindi io fossi un imprenditore metterei… fare vedere alle banche quelle che sono i miei bilanci, ma anche i miei progetti, le mie idee e soprattutto i miei business plan, quello che io penso di poter fare nel futuro in proiezione, soprattutto nei prossimi 3-5 anni. Bene, che altro dire? Vogliamo dare un consiglio finale ai nostri investitori? Ma, ripeto, consigli specifici è impossibile darli proprio perché ciascun investitore, come dicevo prima, ha il proprio profilo. Quello che consiglio di solito è che nonostante le turbolenze dei mercati la nostra economia è fondamentalmente sana. Per cui consiglio di continuare ad investire. Una quota a parte dei propri risparmi si può destinare tranquillamente nel medio e lungo termine nel mercato azionario. Non tanto acquistando titoli singoli, ma appoggiandosi ad esperti, a consulenti esperti e soprattutto a forme di investimento con i fondi comuni di investimento a medio e lungo termine. Quindi ringraziamo Francesco Meglia, in qualità di esperto finanziario nei nostri studi. Grazie soprattutto per i consigli che ha avuto modo di dare a famiglie e imprese. Grazie.